Musica Abbiamo il piacere come ogni anno durante il gran calare di riservare dei premi particolari sono le nostre targhe, sono le targhe che ogni edizione insegniamo quest'anno ci tengo a precisare una cosa, hanno un valore per noi maggiore perché riportano il logo dell'Alfa Romeo come main sponsor della manifestazione quindi come club siamo molto orgogliosi di consegnare queste targhe perché hanno un valore aggiunto speciale, non dico di più rispetto alle altre edizioni ma è un qualcosa di diverso che arricchisce in un altro modo questa festa che oggi condividiamo con tutti voi Per cominciare io inizierei a chiamare il presidente di un club veramente dinamico che abbiamo il piacere di avere oggi con noi dopo tanto tempo che non c'era io chiamerei Filippo Ruggeri del mito Club Jesolo Un grande applauso Filippo Ruggeri del mito Club Jesolo Tra l'altro Filippo tu hai un record all'interno di questa edizione di Gran Calia sei il primo dei non soci che si è iscritto il primo è il nostro David e poi ci sei tu quindi grazie veramente grazie 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 bravo che parlo e anche noi un anno a questo è un po' qui con voi abbiamo portato un piccolo pensierino a nome dell'amministrazione comunale del mio cittadino di Gesù. La presentiamo la nostra sala dei Gatori e naturalmente tutti i soci mi aiutano per Gesù. Grazie a tutti.